Sono 80.000 le pratiche per la ricostruzione nel cratere sismico del centro Italia che aspettano di essere esaminate da più di tre anni dall'ultimo terremoto, 50.000 quelle per danno grave. Servono risorse, idee, sburocratizzazione, elementi che vanno inseriti nel testo unico della legge sulla ricostruzione che sta per essere varata. Il territorio terramano è tra più danneggiati e per questo arriva a Teramo in un convegno all'università Fabrizio Curcio, fresco di nomina come capo dipartimento di Casa Italia la struttura voluta dal governo per promuovere la sicurezza del paese in caso di rischi naturali. Ascolterà e recepirà le proposte che gli arriveranno dalle associazioni di categoria, dal lancio Teramo soprattutto che ha organizzato l'incontro e dagli ordini professionali, degli architetti, degli ingegneri, dei geologi e dei geometri di Teramo. Oggi purtroppo per gestire una pratica del sisma ci vogliono quasi più risorse per ricostruire un aggregato. Questa cosa è inaccettabile perché questi costi poi ce li portiamo e ce li hanno a partire dai tecnici, dal progettista e direttore lavori per passare alle imprese e finire poi all'interno degli uffici speciali che non riescono a gestire nei tempi adeguati. Finalmente oggi, devo dire anche grazie al direttore dell'ufficio speciale che c'è oggi, con alcune azioni è riuscito ad aumentare la dotazione organica dell'ufficio e quindi si prevedono almeno 100 pratiche al mese di evasione. Per quanto riguarda invece la ricostruzione pubblica siamo ancora un po' in alto mare perché si è fatto ancora poco. Dagli architetti Teramani arriveranno tante proposte al capo di Dipartimento di Casa Italia. Intanto l'introduzione di autocertificazione dei tecnici nei progetti di ricostruzione che abbatterebbe di molto i tempi della burocrazia. Ricostruire va bene, dicono, ma ci vogliono anche idee per rivitalizzare il territorio e far tornare le persone a viverci. Bisogna anche pensare all'emergenza sociale oltre che a quella infrastrutturale perché in questi dieci anni o forse più che ci vorranno per la ricostruzione, l'Aquila insegna a dieci anni il patrimonio privato è quasi del tutto ricostruito nella città, non nell'Interland, ma quello pubblico stende a decollare anche lì. Quindi azioni strutturali affinché vengano messe in sicurezza le scuole e si facciano interventi che facciano rinascere i nostri territori che erano già segnati da un abbandono pre-sisma accelerato dagli eventi sismici sia del 2009 che del 2016.